Finalmente siamo arrivati a pronti via, diciamo. Come dicevi tu, sono 18 alloggi che finalmente daranno una risposta abitativa a persone di Santa Margherita che potranno partecipare tramite il bando, il regolamento, insomma tutto ciò che è l'iter burocratico. Però la cosa importante è che finalmente questi 18 alloggi si vanno comunque a sommare già a un nostro patrimonio abitativo che per quanto riguarda il comune di Santa Margherita è di 69 alloggi. In più abbiamo gli alloggi dell'arte che sono circa 73, perciò incominciamo a parlare di 160 alloggi già ad oggi, più i 18 che andremo a fare in via Dogali, perciò incominciamo già a parlare di una cifra che si aggira intorno ai 180 alloggi. In più, come anticipato in conferenza stampa, entro la prima metà del mese di ottobre consegneremo gli alloggi dell'area brisolese. Sì, sicuramente è la fascia produttiva dei giovani di Santa Margherita che va dai 21 ai 35 anni. Come dicevo, mi ripeto, in conferenza stampa prima, sarebbe molto bello vedere che questi alloggi vengono occupati da fasci giovani e che così almeno avranno la possibilità di vivere a lungo e di diventare effettivamente di San Margherita. Ci auguriamo di cuore. Massimo risparmio perché è un dovere il fatto di realizzare da parte della pubblica amministrazione interventi che siano improntati al pragmatismo e al risparmio. Ma massimo risparmio anche perché siccome questi 18 appartamenti sono per l'utilizzo da parte dei soggetti che guadagnano meno di altri, siamo specie sociali più disagiate e allora c'è bisogno di evitare in qualsiasi modo che le spese crescano. L'impianto di riscaldamento infatti per esempio è dotato di un impianto di solare termico, quindi con la luce del sole riscalderemo l'acqua degli appartamenti per gli usi domestici e l'impianto di riscaldamento anche questo è un impianto assolutamente basato al risparmio. Ogni appartamento avrà un suo contattore e ognuno pagherà in ragione dei consumi che effettuerà. Un intervento che è attento a questi aspetti ed è molto attento anche agli aspetti riferiti alle barriere sociali e alle barriere architettoniche chiedo scusa e per questo motivo che per una già avviata collaborazione con Antonio Cuco che è rappresentante locale dei protettori di handicap abbiamo verificato questo intervento perché sia davvero coerente con le esigenze di tutti. Noi abbiamo fretta di realizzare questi interventi perché questi alloggi vanno per i nostri concittadini. Dunque entro il 10 ottobre incomincerà già una prima parziale demolizione dei fabbricati esistenti che sono edifici obsolescenti. La parte più grossa dell'intervento va realizzata subito dopo, effettuata una gara importante perché l'intervento cuba complessivamente 3 milioni e 2, quindi ci sono le procedure di gara e l'intervento era realizzato in 600 giorni di calendario.